Voila Lo so ho perso un po' di lava sono pirla Ok lui già sta funzionando Poi noi da qui potremmo fare direttamente 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 Tanto da qua arrivano i cavi che vanno lì da lì vanno lì perfetto It's the perfect Allora Dicevo abbiamo fatto quello facciamone un altro Però prima di farne un altro svuotiamo prima le fornaci Perché sennò poi mi dimentico tutta la roba dentro Voila Abbiamo questa roba qui Anzi qua farei una cosa del genere guardate Guardate we guardate Andiamo in questa che è vuota E ci metterei tutti i lingotti E la redstone Ok Devo cuocere Il ferro Questi poi andiamo a lasciare Qui che abbiamo altri di questi Perfetto Allora facciamo subito subito una fornace E per Messico Una fornace E facciamone due Voila Poi facciamo la fornace la facciamo diventare di Ah è vero che Pirletta mi seguiva il ferro Pirletta Qui carbone ne abbiamo Qui abbiamo il ferro Ok Allora Come si è messi qui Si sta bello riempiendo Allora Siamo a quattro pezzi di ferro Me ne servono cinque in teoria Per far così Anzi Me ne servirebbero sei Per farne due Svuotiamoci un attimo l'inventario Voila Vediamo un po' qua che abbiamo Allora abbiamo già la pelle Abbiamo quello Abbiamo quello Io volevo fare ragazzi La farm di filo La farm di filo Che si fa con questi flaks Se non mi sbaglio Non erro Poi ripiantiamo gli alberi Se non erro Erano quattro Già che usciamo E mi serve la zappa Che dobbiamo Logicamente rifare Facciamo una zappa Per cui Voila E la facciamo di legno Ma si Ma si Ok Usciamo un attimo drento E piantiamo Questi qui Ok Poi Andiamo a mettere Gli alberelli One Oh One Two Three Four Basta C'erano già Qua fuori Ok 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 Torniamo a casa Che il ferro è pronto Lo so Lo so che il ferro è pronto C'è anche un ospite Speciale Lo zombie dagli occhi rossi Oh ma vai a zig e zag Pirletta Devo mangiare Devo mangiare perché sto morendo Ok Dai dai Come siamo messi qua La pepina Voila Venite da papà Ok Allora Ne facciamo due Abbiamo detto Poi ci serviva Quattro di quelli Ok Dovremmo avere tutto Dovremmo avere il tutto ciò Dovremmo avere il tutto ciò No che cacchio dico Dobbiamo fare i generatori prima Pirletta Allora Generatori si fa così Due batterie E questi qua Voila Due generatori Due di questi Così E del vetro Voila Altri due Geothermal Thermal Thermal Li mettiamo One li E one li E ne abbiamo Tre Tre Ne abbiamo ben Tre La lava arriva E direi che funziona bene Ora ci mancheranno Uno due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Cavi Otto Cavi Otto Cavi Otto Cavi Otto Cavi Ragazzi Devo consumare un po' di ferro Devo consumare un po' di ferro per forza Orca Loggia Perché con questi qua esplode Però potrei mettere quelli d'oro In teoria Se non mi sbaglio ragazzi Con quelli d'oro non dovrebbe esplodere Non vorrei dire una cacchieta però Però Eh dai Perché poi No C'erano quelli più grossi lo so Me ne vengono solo tre Me ne vengono solo tre Nessun problem Andiamo a raccogliere la gomma Raccogliamo la gomma da questi alberi qui Però li devo ripiantare subito ragazzi Perché questi alberi sono sacri Anche se Se ne trovano tanti in giro Ok Poi mi avete detto Nel episodio scorso ragazzi Che Quando ho trasformato la legna Vedete 16 Dovrebbero diventare 16 per 4 64 Pum Mentre questi Mentre questi 11 per 4 Dovrebbero essere 44 Invece sono 33 Perché invece di 4 Ne da 3 Ma è questo tipo di albero Questa tipo di legna Ok Mi abbaglia il papagal Perché non mi raccoglie l'albero? Non mi dite che sta laggando Minecraft Non mi raccoglie le cose No forse si è buggato quello Bene Non fa nada Allora Ripiantiamo Niente Quello non me lo dà ragazzi Orca loggia Dai mi dai un altro Che lo ripianto Me ne vado Che sta arrivando la notte Sta arrivando la notte Eccolo qua Thank you Damn 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 No Guardate un pig zombie Uscito dal Dal nether Guardate Non riesce più a rientrare Lo scemo Ah Pirla Ok Torniamo a casuccia Scusate ragazzi Se in questa serie Farò dei tagli improvvisi Ma vi ripeto Che ho veramente Molto da fare Tra lavoro eccetera E ho veramente Poco tempo per registrare Per cui registrerò Di seguito Le puntate Poi le taglierò Per problemi Anche di connessione E le caricherò Tutte insieme Bene Detto questo Mettiamo a cuocere Questa benedetta Cosa chi E vediamo Di non far fare Un patatrack Perché di cavi d'oro Ragazzi Ci sono anche Quelli più grossi Vi faccio vedere Abbiamo i Ah no 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 Non ci sono più Una volta Mi ricordo Che c'erano Quelli 4x 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 Ora ci sono Solo di Questi qua Bah Vabbè Ma forse Però pirla I cavi Si possono fare Solo col diamante Come non detto Va cacarva Allora Qua Ok Dai cuoci Me ne servono Altri 5 In teoria Oh Un enderman Un enderman Qua è finito Anche il carbone Io lo devo uccidere Voilà Voilà Allora Mi serve il carbone Però carbone Ancora un po' Dovremmo averlo In teoria Eh Ha voglia Poi Lasciamo Il cervello Lasciamo Questo Gli alberi E basta Ah Anche questo Cosa Tanto Per il momento Non serve Voilà Allora Qua come siamo messi Così Mettiamo Il carbone Qui Ok Abbiamo anche Un bel po' Di ferro Voilà Quanti ne vengono Ok Giusti giusti Forse Erano 8 Giusto Ragazzi Se facciamo Pum Azzo Sono pirla Sono pirla Perché Si erano 8 Anzi In teoria Dovano essere 9 Vedete Pampete Perché manca L'angolo E poi mi sono dimenticato Che doveva salire Niente Ne colleghiamo Una per il momento Vediamo un po' Vediamo un po' Se fa Pum Sicuramente Farà Pum Ve lo dico Mi Tanchete E abbiamo La corrente La prima corrente Me ne servono Altri due Magari ce la facciamo Farne altri due Non abbiamo oro Dicete voi Ma oro In teoria Ne abbiamo Attenzione Ma ne servono Tre ori Ne cuociamo due Ne diventano quattro Perfetto Ok Perché tanto Ho visto che Ah no Ne abbiamo solo uno Di questi Porca loggia Porca loggia Porca vacca Chi c'è nel server Nessuno Possiamo fare la nanna Ok Buongiorno Mangiamo Qualche cosa Allora Mi servirà Altra gomma Come fare Della gomma Subito Nessun problem Ragazzi Con le ossica Con le ossica Mettiamo a cuocere Loro Dovrò andare in caverna Speriamo che anche Mia moglie Mia moglie Si metta a registrare Più presto Così Va in caverna Lei è al posto mio No scherzo Andremo insieme Allora Anzi Vorrei fare un query Sinceramente Parlando Però Vabbè Vedremo È che non riesco a trovare Cosa ragazzi Diamante Per fare un query Ne servono Ben 17 Voilà E voilà Ripianti Riscaviamo Prima ce ne erano Andati 11 Ora vediamo un po' Quanti ce ne darà Perché non mi ricordo Se ogni blocco Ne da uno O se è random Però sembra O da ogni blocco Me ne ha dati Ben 13 13 13 13 13 13 13 Voilà Voilà E andiamo Andiamo Ce ne è Azzo Qua non va via Fin che non stacco qua Non se ne vanno le piante Le foglie Ok Ah canne da zucchero Canne da zucchero Allora 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 Dove erano rimasti Erano rimasti Che stavo cuocendo Devo cuocere qua Abbiamo cotto l'oro E cuociamo questi Ok Allora Con tre ori Facciamo i fili Ah ne vengono ben 12 Aha Ok E me ne servono ancora due Vabbè ma solo due me ne servono Intanto ragazzi con un geothermal Guardate quanta corrente Poi metteremo quelli di Quelli più belli ragazzi Questi qua non mi piacciono molto Questi qua d'oro Anche se però È la prima volta Se non mi sbaglio Che uso i cavi d'oro In una mia serie Non mi ricordo Se li abbia usati in altre serie Non sono brutti 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 Sì un po' brutti Un po' brutti so Dai però carciofo Carciofo 1 E 1 2 Voilà Vediamo un po' Quanta corrente fa Questi sono pieni Quasi Ole Azzo It's the Azzo It's the Prima corrente Voilà Allava come si è messi bene Questo qua poi lo svuoteremo Vedremo come Ora io so che se lo rompo La perdiamo Voilà Bene ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo fatto la prima Corrente vera e propria Generata da noi E non da pannelli solari O altro Guarda 108.000 E ora da qua Possiamo collegare Tutti i nostri macchinari Che vogliamo Però Mi serviranno i cavi Porca loggia Porca loggia Porca vacca Mi serviranno i cavi Poi qua ci metteremo Ricordatemi Un altro di quelli Un altro MFE Qua altri cavi Pampete E di qua metteremo altri geothermal Me ne servono 1 2 3 4 5 6 7 geothermal Mi servono ancora ragazzi Me ne servono un bel po' Vabbè Poi vedremo Bene Ah Permesso Mi squilla il cellulare Ok scusate ragazzi Scusate Allora Sicuramente adesso abbiamo tolto le torce qua Per cui Dovremmo rimetterle Vabbè Mettiamo qua E vaffanchiul Bene ragazzi Abbiamo fatto la nostra prima corrente Come già detto Mettiamo ancora un po' di carbone E vi dico che Per il momento Per il momento Per il momento Ma sappiate che Li batteremo questi qua sul server Da Luke e tutto Ciao a tutti Perché sono 10 Ah no niente Ne ho visti altri invece no Abbiamo un po' di ferro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti